Gabriella, una notte celeste che ritorna e ancora una volta al centro ci salvarò la terme. Certo, la notte celeste delle terme dell'Emilia-Romagna, l'azienda di promozione turistica dell'Emilia-Romagna collabora per questa grande festa delle terme, è un po' il capodanno delle terme e noi insieme appunto al comune di Sassuolo, alla Proloco, ai commercianti del centro storico e all'ST, la discoteca ST, quest'anno facciamo una festa, praticamente faremo una festa in Piazza Garibaldi a marcord di quelle che sono state le discoteche, i dancing, perché partiamo dal dancing la terrazza per passare al Valentine, al Next, all'ST, proprio per raccontare diciamo chi ha vissuto ma chi è venuto di grandi a salvarò la terme? Perché ricordiamoci che negli anni 90, diciamo nel 1960, 70, 80 e 90 cioè sono venuti veramente dei personaggi incredibili, cominciando da Mina, da Patti Pravo, da Renato Zero, dai gatti di Vicolo Miracolo, cioè tutti i gusti diciamo di quello che poteva essere la musica sono venuti a salvarola e si potevano sentire a salvarola, ricordiamoci anche Fred Bongusto, Peppino di Capri cioè veramente di tutto il meglio del meglio e quindi fare un revival di questo mi è sembrato una cosa molto carina proprio per rivivere un po' quegli anni, però senza dimenticare che poi le cose sono andate avanti ed oggi si arriva all'ST che per i giovani di oggi è un punto molto importante proprio perché è vicino alla città e quindi stanno vicino a quello che è il paese e quindi senza dover andare chissà dove quindi questo per noi è anche importante perché è una forma anche proprio di servizio ai giovani e io credo che sarà una bella serata e questo il 27 di agosto dalle 21 in piazza Garibaldi fino alle 24 e nell'ambito di questa serata verranno sia premiate le vetrine più belle infatti ricordo le persone che potranno venire a Sassuolo anche nei giorni precedenti proprio perché i commercianti, molti commercianti faranno vetrine celesti proprio per dare un tocco di questo colore che è un pochino il live motive della festa ma ricordo una cosa ancora più importante noi facciamo un premio, lo diamo tutti gli anni a chi si è particolarmente distinto o nella cultura o nel benessere o nello sport e quest'anno sarà dato per veramente il grande grande sforzo e il bene che hanno fatto a tutti quanti ai medici di medicina generale della provincia di Modena per veramente la loro grande grande passione nel fare il loro lavoro e a mettersi in servizio di tutti noi quindi è un premio veramente che diamo molto molto volontieri c'è anche una festa che si svolge direttamente qui a Salvarola dedicata alle famiglie e un post spettacolo di piazza Garibaldi che si svolge qui all'ST Sì, sempre appunto il 27 alle 19.30 ci sarà appunto lo spazio famiglia all'interno del centro benessere Balnea quindi le famiglie con bambini anche piccoli possono appunto approfittare di questa bella notte celeste e festeggiarla appunto al centro benessere e ci saranno proprio anche dei momenti dedicati ai bambini con giochi e quindi un qualcosa fatto per le famiglie e anche per tutti quanti quelli che invece saranno in piazza Garibaldi a godersi la musica e a godersi appunto questo revival che credo sia molto simpatico specialmente per chi ha una certa età ma anche per i giovani perché poi l'ST chiaramente farà anche qualche musica più vicina a loro e comunque poi si potrà andare all'ST dopo la mezzanotte che sarà aperto a Salvarola e quindi per continuare la serata Per chi il 20-21 finirà le vacanze c'è una piccola appendice Chi finirà le ferie il 20-21 potrà appunto festeggiare ancora a Salvarola Terme con le famiglie oppure in centro storico a Sassuolo con questa notte celeste che chiaramente darà sicuramente un tocco di amarcord ma anche di modernità e futuro a Salvarola Terme con le famiglie